Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 in edizione FAN. La maglia da calcio Jordan Paris Saint Germain 22-23 ha una combinazione di colori diversa rispetto a tutte le precedenti maglie Jordan per il Paris Saint Germain. È principalmente nero combinato con il giallo per i loghi. Ufficialmente i colori sono black, tour, yellow e non esiste un terzo colore. Ciò che rende unico il quarto kit Paris 22-23 è un design unico di linee geometriche all over in giallo. Questo design si ispira alla città di Parigi di notte. Pantaloncini e calzettoni neri completano il kit. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. La maglia è molto bella. Dico già che nella mia classifica questa prende 5 stelle. Di quella di quest'anno, secondo me, è la più bella. Quindi per fortuna che l'hanno fatta. Il costo che trovate qui sopra... Non voglio aggiungere altro perché secondo me già parla da solo. In descrizione trovate qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quelle bellissime offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, regalateci un grosso like per farci crescere ed aiutare ad avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!